A Fiorano ha approvato il bilancio di previsione con investimenti da un milione di euro sul territorio, attenzione a scuole e dissesto idrogeologico. I ladri hanno ripreso a colpire con frequenza in Varseriana e i comuni chiedono la collaborazione dei cittadini imitando a denunciare i furti e tentativi di furto. Continua il percorso per rendere operativo il centro per i disturbi del comportamento alimentare di Piario, inaugurato a dicembre. Si sta lavorando anche per l'accreditamento. Buonasera a tutti i telespettatori e bentornati ad un nuovo appuntamento con le notizie di Antenna 2. Apriamo dalla cronaca di una tragedia avvenuta a Torre De Bugi. Non vedendolo rientrare a caso i familiari avevano lanciato l'allarme che aveva fatto scattare le ricerche, concluse oggi, poco dopo le 13, con il ritrovamento del corpo di un 66enne. La tragedia è avvenuta in località San Marco, a Torre De Bugi. La dinamica è ancora da chiarire, ma dalle prime ricostruzioni del personale dell'elisoccorso e dell'ambulanza sul posto insieme al soccorso alpino, ai vigili del fuoco e ai carabinieri. L'uomo sarebbe deceduto in seguito di una caduta accidentale su un terreno ripido e scivoloso. In Alta Valle Camonica, precisamente nel territorio di Edolo, due anziani sono stati investiti da un'automobile. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio, poco dopo le 14, in via Gennaro Sora. Dalle prime informazioni, un'automobile ha investito due pedoni. Il soreu delle Alpi ha attivato i soccorsi in codice rosso. Ad avere la peggio è stato un uomo di 83 anni, portato per un trauma cranico in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in elisoccorso. La donna che era con lui, una 82enne, è stata portata in codice giallo all'ospedale di Esine. Sul posto sono intervenuti, oltre all'elisoccorso proveniente da Sondrio, l'automedica, un'ambulanza e la polizia stradale di Brescia. Passiamo ora ad Albino, dove un incidente è avvenuto sulla strada statale della Valle Seriana, poco prima delle 17. Dalle prime informazioni, lo scontro ha riguardato un'auto e un mezzo pesante, subito fuori la galleria del Dosso in direzione Bergamo. I soccorsi sono scattati in codice giallo e il soreu delle Alpi ha inviato sul posto un'ambulanza dalla Croce Rossa di Alzana Lombardo. Dalle prime informazioni, un ragazzo di 20 anni, probabilmente a causa di un colpo di sonno, è andato nell'altra corsia sbattendo contro un furgone. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della locale di Albino per i rilievi del caso e per regolare il traffico che è subito andato in tilt. Voltiamo pagina, ci si avvia l'appuntamento elettorale anche a Fiorano ed è ora di tirare le somme per l'amministrazione guidata da Andrea Bolandrina. Approvato il bilancio di previsione saranno investiti un milione di euro sul territorio, attenzione in particolare alle scuole e al dissesto idrogeologico. Sentiamo. Sì, è un bilancio che nel suo complessivo ammonta 3 milioni e 500 mila euro e nella parte corrente sono 2 milioni e 500 mila euro ed è quella somma che serve per erogare tutti quei servizi che siamo comunque riusciti a erogare allo stesso modo, sempre con efficienza, nonostante tutti i rincari che ci sono stati e senza chiedere un aumento di esborso da parte dei cittadini, quindi un aumento di tasse. Credo che questo sia un dato positivo e quindi per questo voglio ringraziare gli assessori e i dipendenti comunali per il lavoro svolto di ottimizzazione dell'espletamento dei servizi. Un esempio ne può essere appunto la raccolta puntuale che è stata intradotta recentemente. All'interno di questa parte corrente si nota anche circa 100 mila euro destinati, più di 100 mila euro destinati a diminuire il debito pubblico comunale e sommato a quello degli anni precedenti ci permette di chiudere il quinquennio con un abbattimento di 500 mila euro del debito pubblico, questo nonostante le opere che sono state fatte e credo sia un ulteriore dato positivo che vada sottolineato. All'interno del bilancio troviamo poi la parte spese di investimento che ammonta ad un milione ed è il totale degli investimenti che verranno fatti nel 2024 sul territorio comunale di Fiorano. Non sono nuove opere non ancora dichiarate, non ancora comunicate attraverso interviste, ma sono opere che sono state ribaltate dal 2023 perché con gli eccessivi finanziamenti non siamo riusciti a mettere a terra tutto, a realizzare tutto e quindi si sta un po' così procedendo con calma. Credo che anche questo sia un dato positivo perché raccogliere un milione di euro all'interno dell'anno 2023 non è stato facile, ha richiesto parecchio lavoro. Questo milione di euro permette di realizzare diverse opere sia nel settore prevenzione rischi e settore idrogeologico del territorio. Mi riferisco alla messa in sicurezza per la caduta massi nel versante di via Leggiardini per 95 mila euro, all'intervento sempre per prevenzione rischi idrogeologici nella via Carlo Alberto della Chiesa, quindi in direzione Val de Grus, 90 mila euro anche qua, 45 per la caduta massi e 45 per la messa in sicurezza del resto della strada. Mi riferisco anche all'intervento in Vallemisma, anche qui 80 mila euro per la creazione di una nuova vasca di raccolta detriti e la sistemazione di quelle, la manutenzione di quelle già esistenti. Poi abbiamo interventi in ambito di efficientamento energetico, nella scuola elementare abbiamo 175 mila euro per aggiungere pannelli solari, batterie di accumulo e la sostituzione dei corpi illuminanti, così come altri 50 mila euro sempre sul territorio per sostituire i corpi illuminanti, sono dedicati a sostituire i corpi illuminanti della pubblica illuminazione e quindi anche qui andiamo verso il completamento della totale riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblico. E poi abbiamo un altro intervento importante, quello sull'asilo nido, un servizio nostro importante che avevo già citato qualche mese fa e che non è vista la grandezza dell'intervento e il tipo di servizio ci viene richiesto di poterlo espletare, poterlo attuare in due o tre step, questo per evitare di prolungare le chiusure nel periodo estivo e quindi creare disagio alle famiglie. Questo è un intervento che nel totale cuba 360 mila euro e appunto si riferisce all'efficientamento energetico e all'ampliamento e al miglioramento degli spazi, questo per consentire un numero maggiore di giovani iscritti, di bambini e quindi per poter erogare non solo un miglior servizio ma anche più servizi alla cittadinanza. E alla fine l'intervento anche della pista ciclopedonale di 180 mila euro, questo il lavoro è già iniziato e ovviamente ci vorrà ancora qualche mese e quindi è stato ribaltato sul 2024 questo tipo di intervento. Cambiamo argomento, i ladri hanno ripreso a colpire con frequenza in Valle Seriana. I comuni chiedono la collaborazione dei cittadini e invitano a denunciare furti e anche i tentativi di furto. Sentiamo Nicolandro Letti. Torna l'allarme furti in Valle Seriana. Negli ultimi mesi gli episodi sono aumentati creando preoccupazione tra i cittadini. In Alta Valle Seriana sei comuni, Clusone, Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Son Gavazzo hanno diffuso un comunicato rivolto alla popolazione. Dopo l'aumento dei furti registrato tra la fine del 2023 e l'inizio di quest'anno, le amministrazioni comunali insieme alle polizie locali si sono incontrate con i carabinieri per rafforzare la collaborazione che già esiste, ad esempio nella condivisione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Si è deciso di intensificare i servizi di controllo del territorio e anche di informare la popolazione. Il comunicato dei comuni sottolinea che le forze dell'ordine stanno operando con massimo impegno per prevenire e fronteggiare il fenomeno che in questi ultimi mesi ha avuto una recrudescenza anche nel nostro territorio. I responsabili e gli agenti di polizia locale di Clusone e dell'Unione Comuni della Presolana collaborano fra loro e con i carabinieri per l'integrazione dell'attività di pattugliamento. Le amministrazioni comunali, oltre a richiamare la necessità che vengano attuati tutti gli accorgimenti possibili per proteggere la propria abitazione, chiedono la collaborazione dei cittadini nel segnalare con tempestività al 112 ogni situazione sospetta. È infine sempre indispensabile denunciare l'eventuale furto o anche solo il tentativo di furto subito, conclude il comunicato. Anche in Val Gandino i furti sono aumentati nelle ultime settimane. Sono state prima prese di mira alcune zone di Peia, poi ci sono stati episodi a Casnigo, a Barzizza e Cirano. I ladri spesso hanno divelto i serramenti, infranto i vetri per entrare nelle abitazioni, messe poi a soquadro alla ricerca di soldi e oggetti preziosi. Arrivano i primi dati di come stanno andando i saldi invernali sul territorio. Le vendite sono in calo del 5%, andiamo a scoprire quali difficoltà stanno incontrando gli esercenti. Siamo tornati da Diego Pedrali, presidente del settore abbigliamento calzatura articoli sportivi della provincia di Bergamo. I saldi ormai sono iniziati dall'inizio dell'anno, a che punto siamo innanzitutto? Come è stato detto poc'anzi in presentazione, io rappresento il settore abbigliamento calzatura della provincia di Bergamo, ma faccio parte anche del Consiglio Nazionale di Federazione Mod Italia, che è una delle federazioni più importanti di Concommercio Italia. Tocco con mano quasi ogni giorno notizie e dati e posso quindi già asserire che al momento ci troviamo in una situazione di un 5% o meno al confronto dell'anno scorso. Visti questi dati, quali sono le prospettive che possiamo aspettarci? Le prospettive sono che innanzitutto l'effetto non è per nostra incapacità, ma è dovuto a questa crisi economica che ci attenaglia e che purtroppo dura, perdura. A questa va aggiunto anche il fattore climatico, cosa mai successo sino ad oggi, un fattore climatico che ci porta a poter dire che ci troviamo a parte questi ultimi giorni in una situazione quasi di autunno o primavera e non di certo inverno e quindi tutto questo non è stato un discorso positivo per noi. Voglio però anche dire che una speranza e quindi una positività c'è dovuta al fatto che con la rimodulazione dell'IRPEF dovrebbero entrare nelle tasche di ogni persona più soldi e quindi una possibilità di maggiore spesa. Diciamo che questo potrebbe essere anche un motivo per poter far sì che la gente venga più volentieri nei nostri negozi. Negozi di vicinato come è la situazione in cui possono essere gli sviluppi? Potrei dire che i negozi di vicinato oggi ne risentono positivamente in quanto il click cosiddetto non ha più quella pill. Non c'è paragone tra un acquisto fatto online e un acquisto fatto in un negozio in quanto in un negozio oltre a poter toccare con mano i capi deve esserci comunque una professionalità da parte nostra nel spiegare i capi, nel consigliare il coordinato eventualmente di questi capi che vanno acquistati fino addirittura ad un approfondimento di come viene fatto, di come viene costruito, di che materiale è fatto il prodotto. Tutto questo sicuramente in online non lo si trova e quindi questo dovrebbe appunto essere il motivo per cui la gente, cosa che come ho detto sta succedendo, dovrebbe venire nei nostri negozi. C'è stata fatta questa manifestazione di Bergamo e Brescia, città della cultura. Questo non ha portato benefici a noi, deve portare invece appunto i benefici, quello che ho detto prima, cioè quello della nostra professionalità per far sì che si arrivi addirittura a un sistema quasi, mi potrei permettere di dire, di sostenibilità in quanto il contatto umano con le persone potrebbe sicuramente o deve più che potrebbe far sì che il negozio esista oggi e nel futuro. Solo in questo modo c'è speranza che il nostro negozio resista. Possiamo trarre quindi delle conclusioni su questo argomento? Certo, quindi mi riallaccio a una frase storica di Chanel in cui lui diceva appunto che la moda passa ma lo stile rimane. Proprio mettendo in pratica questo slogan, questa diciamo regola, dovremmo appunto far sì che si crei, come ho detto prima, questo contatto umano con le persone, far sì che i negozi resistano oltre che esistere e in modo tale che le conclusioni potrebbero essere quella di una speranza positiva di vendite. Torniamo a parlare del Centro per i disturbi del comportamento alimentare di Piaro inaugurato a dicembre. Il percorso per renderlo operativo sta continuando, dice il consigliere regionale Michele Schiavi dopo le richieste di chiarimento da parte del Partito Democratico. Si sta lavorando anche per l'accreditamento. Nelle ultime settimane si è parlato molto del Centro per i disturbi del comportamento alimentare di Piaro inaugurato nelle ultime settimane soprattutto da parte del Partito Democratico in consiglio regionale sono state avanzate delle richieste di chiarimenti rispetto al futuro di questa struttura. Michele Schiavi ha seguito l'iter per la realizzazione del Centro sin dal suo insediamento in consiglio regionale. Ecco, com'è la situazione? Che cosa dice anche rispetto alle richieste del Partito Democratico? Sì, esatto, se ne è parlato molto e direi non sempre correttamente. Io capisco la necessità a volte di fare anche della polemica politica però su servizi importanti, su centri importanti come il Centro per i disturbi del comportamento alimentare di Piaro e in generale sul presidio ospedaliero di Piaro penso sia corretto, importante dire le cose come stanno, seguire quello che è stato promesso ed è stato approvato a livello regionale e ovviamente sollecitare se le cose non avvengono. Fortunatamente al momento non è così come i telespettatori di Antenna 2 Sando dal momento del mio insediamento ho sempre seguito con diversi sopralluoghi, alcuni concordati, alcuni a sorpresa, i lavori del Centro per il disturbi del comportamento alimentare di Piaro, lavori che avevano subito dei rallentamenti a causa di prescrizioni della superintendenza, a causa del ritrovamento di materiale nocivo, amianto, che doveva essere smaltito e non era previsto, a causa dell'aumento dei costi dei materiali. A dicembre finalmente abbiamo inaugurato gli spazi del Centro per i disturbi del comportamento alimentare e durante l'inaugurazione di dicembre era stato detto che quello era un primo passo per arrivare poi all'attivazione del centro in modo particolare per quella che è la parte residenziale, che è la parte che ha bisogno di più personale. Questo non vuol dire che in questo momento, in questo periodo, si è stati fermi, anzi è stato attivato un corso di perfezionamento con l'Università degli Studi di Bergamo e la SST Bergamo Est, proprio per formare il personale, sia quello già individuato, sia quello che deve essere ancora individuato, da cui dai corsisti di questo corso si potrà pescare nuovo personale per il Centro dei disturbi del comportamento alimentare ed è in corso, come avviene sempre quando deve essere attivato un nuovo servizio, il periodo di accreditamento della struttura stessa. Proprio oggi, oltretutto, si è tenuto un incontro tecnico tra ASST Bergamo Est e ATS Bergamo, che deve rilasciare l'accreditamento, per verificare che tutto sia in ordine. L'altra cosa che si è fatta in questi mesi, che in questo momento continua ad essere fatta, ed è su questo che la polemica sinceramente non l'ho proprio capita, è che gli ambulatori per i disturbi del comportamento alimentare, per i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, in questo momento sono già attivi, sono attivi da diversi mesi, ben prima che il Centro per i disturbi del comportamento alimentare fosse attivato, che sono attivi a Piario, a Gazzaniga e a Calcinate, e il territorio dell'SST Bergamo Est è stato il primo territorio a attivare questi ambulatori di presa in carico dei pazienti, tant'è che al momento non risultano fortunatamente delle situazioni gravi o meno gravi in cui pazienti e utenti che hanno fatto richiesta non sono stati presi in carico. Quello che ci tengo a dire quindi è che nel 2024, fortunatamente su questo tema, le risorse sono in grande aumento rispetto agli anni precedenti, sia le risorse regionali sia le risorse nazionali, e che il Centro per i disturbi del comportamento alimentare di Piario sta seguendo quello che era il cronoprogramme, quello che era il percorso che era già stato annunciato nel momento dell'inaugurazione degli spazi e che in questo momento non sta subendo ritardo. Al momento, quello che ci tengo a precisare è che non c'è nessun disinvestimento da parte di Regione Lombardia sul centro di disturbi del comportamento alimentare, anzi l'assessore Bertolaso stesso in Consiglio regionale ha ribadito che sarà uno degli spazi degli hub al centro della rete regionale per combattere i disturbi del comportamento alimentare. Ci spostiamo ora a Premolo dove il reporter di Ardesio Giorgio Fornoni sarà l'ospite della serata organizzata in occasione del Giorno della Memoria. Sentiamo. Anche a Premolo per il Giorno della Memoria un incontro per ricordare che cosa avete pensato e organizzato. Sì, nella serata di venerdì 26 gennaio, le ore 20.45 presso l'oratorio di Premolo ci sarà questa serata intitolata Per non dimenticare è una serata in cui Giorgio Fornoni, che non ha bisogno di presentazioni e che ringrazio sempre per la sua grande disponibilità nei nostri confronti presenterà due suoi videodocumentari riguardanti esperienze dirette di sopravvissuti dei lager nazisti ma non solo, anche dei gulag sovietici che è una realtà purtroppo spesso magari che passa in secondo piano ma che è stata una tragedia altrettanto tragica scusate il gioco di parole come un'esperienza tragica come quella dei lager nazisti in cui anche tanti italiani, anche in questi gulag purtroppo fecero questa esperienza tanti morirono e fra cui anche un cittadino di Premolo perse la vita in un campo di concentramento sovietico quindi è una bella serata per non dimenticare appunto visto anche l'attualità sicuramente sono esperienze da non dimenticare con l'auspicio che appunto non si possono più verificare Si avvicina la festa dedicata a San Giovanni Bosco e a Gandino saranno diversi gli appuntamenti per i giovani e per i genitori per quest'ultimo in particolare sono state organizzate due serate venerdì 26 e venerdì 2 febbraio dedicate all'educazione e alla sessualità Don Manuel Valentini Gandino festeggia San Giovanni Bosco lo fa sia con momenti dedicati ai ragazzi ma con momenti dedicati ai genitori partiamo da quest'ultimi che tematiche affrontate e due appuntamenti sono? Come unità pastorale di Gandino Barzidia Cirane Gandino abbiamo un attimo come sempre l'attenzione di oltre all'aspetto liturgico delle colazioni con la preghiera al mattino oltre le messe tutti i pomeriggi nei giorni di San Giovanni Bosco con lo spettacolo la sera di San Giovanni Bosco che in questo caso è il sabato sera e la messa e la processione il giorno di 31 abbiamo due incontri particolari ci siamo chiesti quest'anno ma cos'è che i genitori avrebbero bisogno un pochettino perciò cos'è che sono un po' i desideri dei genitori e in particolare quali sono le necessità dei loro ragazzi ci siamo detti forse aiutare i genitori a essere genitori educanti che sanno educare in questo periodo particolare è una cosa importante perciò due serate sono due venerdì il 26 gennaio e il 2 di febbraio le 20 e 30 in oratorio di Gandino con due dottoresse con due psicologi che ci parleranno prevalentemente di come oggi i genitori possono aiutarsi tra virgolette tra di loro ad educare i propri figli i figli della comunità il primo sarà il tema educare i figli coraggiosi per essere genitori un po' al passo con i tempi sappiamo che negli ultimi anni è molto cambiato il mondo anche solo il telefono che abbiamo in mano anche solo tutte le diverse mode che ci possono saltar fuori come stare un po' al passo con i tempi e sapere educare bene i propri figli perciò la dottoressa Emiliana Rodari che è una pedagogista e il venerdì 2 febbraio adolescenti sessualità e affettività ne possiamo parlare cioè sappiamo sempre che l'affettività e la sessualità sono un tabù cioè si fa fatica un po' in famiglia a parlarne allora perché non provare non a dire chissà che cosa ma a dare due dritte di come anche solo ascoltare i propri figli di come vivono questo momento particolare che è l'affettività della loro vita che poi le accompagnerà un po' per tutta la loro storia di relazioni ecco un po' questo che l'oratorio si vuole mettere prima si è messo in ascolto dei ragazzi adolescenti giovani ragazzi elementari delle medie e dopodiché dei genitori per cercare di fare insieme un qualcosa ci sarà anche un terzo incontro che però stiamo cercando di programmare e sarà un po' soprattutto la questione delle nuove diciamo così mode online di investimento che anche i nostri adolescenti cercano e vogliono cercare di scoprire ma è un tema delicato e vogliamo provare ad affrontarlo in maniera approfondita vi aspettiamo veniamo ora ai programmi della serata su Antenna 2 alle 20 e 15 l'Alpino alle 20 e 25 promoserie 20 alle 20 e 30 l'approfondimento sulle attività della regione ma è regione alle 20 e 50 classica ma non troppo l'intervista a cura di Roberto Arnoldi alle 21 e 30 ski magazine alle 22 la rubrica più salute news alle 22 e 30 la seconda edizione del TG alle 23 e 15 Antenna 2 sport e a mezzanotte e 30 la terza edizione del TG di Antenna 2 dal manacco del giorno domani giovedì 25 gennaio il sole sorge alle 7 e 45 tramonta alle 17 e 20 la luna è piena sorge alle 16 e 44 tramonta alle 8 e 40 di venerdì la chiesa ricorda la conversione di San Paolo e con questo è tutto dopo il TG andranno in onda il TG Sport e le previsioni del tempo a tutti voi una buona serata a tutti